Allora, Ivan Poweller, bravissima, allora uno scrittore australiano che si è innamorato della Valle Safora, dell'oltrepo pavese e ti sei trasferito a vivere qui in provincia di Pavia. Ecco, come nasce questo amore, come hai conosciuto la zona? Dunque, io sono venuto qui dall'Australia e mi sono trovato in un mondo completamente diverso rispetto a quello che conoscevo fino a quel momento. L'Australia è un paese di grandi spazi aperti, di natura incontaminata, dove l'antica cultura degli aborigeni si contrasta diciamo con una nuova cultura, da nuovissimo mondo, chiamano le Americhe il nuovo mondo, noi siamo il nuovissimo mondo. Infatti io appartenevo a quella cultura, sono australiano di origini anglosassoni e quindi una cultura che ha appena 200 anni di storia, sostanzialmente. Mentre qui in Italia mi sono trovato in un mondo completamente diverso, un mondo di città antiche, di resti romani, di castelli medievali, dove c'è una densità di popolazione che per un australiano è impossibile comprendere, ma anche una densità di cultura, ricchezza culturale, storica, che per noi è qualcosa di incredibile, di straordinario. E piano piano ho cominciato ad indagare, informarmi sulla storia di Pavia, la mia città adottiva qui in Italia e per la mia fortuna ho conosciuto gli amici dell'associazione culturale Il Mondo di TELS. È un'associazione culturale che si è posta lo scopo di costruire ponti culturali tra la provincia di Pavia e il mondo anglosassone, il mondo esterno in generale. E loro mi hanno incoraggiato in questa opera di indagare, scoprire, comprendere. E mi hanno detto, senti, perché non vai a scoprire storie che colleghino in qualche modo il nostro mondo qui, della provincia di Pavia, è il tuo mondo anglosassone internazionale. Allora, ho cominciato a lavorare, scoperto anche tantissime storie, però tra tutte le storie che ho scoperto una spiccava in modo assoluto, che era la storia di Edoardo II, il re d'Inghilterra, che potrebbe essere probabilmente è morto qui a Sant'Alberto di Butrio, nella Valle Staffora. Era una storia che sembrava già un romanzo, quando l'abbiamo scoperto, insomma. E presto questa storia... era chiaro che non poteva rimanere soltanto un breve racconto, non poteva rimanere soltanto un opuscolo informativo per eventuali visitatori, doveva essere qualcosa in più. Allora, all'associazione mi hanno chiesto, tu te la sentiresti di scrivere un romanzo? Io, ingenuo, ho detto sì, certo, perché no? Quanto tempo ci metti? Ma, secondo me, ci potrei mettere sei mesi? Non avevo mai scritto un romanzo, tantomeno un romanzo storico. Allora ho cominciato a lavorare e cinque anni dopo è stato pubblicato il mio romanzo da PM Edizioni, si chiama Edward, il mistero del re di Aura Mala. Aura Mala è il nome medievale del castello di Aura Mala, che è il castello che domina l'intera zona e che, maggior ragione, nel Medioevo dominava l'intera zona, era la corte della famiglia Malaspina. Ecco, ma la tua ricerca però non si è esaurita con la pubblicazione del libro, sta continuando? Sta continuando perché attorno al libro è poi nata un'iniziativa di crowd researching. Ora, avrete sentito parlare di crowd funding, dove si invita, diciamo, il pubblico a partecipare alla ricerca tramite la donazione di fondi. Ecco, è qualcosa di simile, ma noi non chiediamo al pubblico di contribuire con fondi, chiediamo al pubblico di contribuire con conoscenza, con le loro abilità e soprattutto con i loro alberi genealogici, perché noi stiamo cercando, sì, documenti medievali che possano o confermare o negare la storia di Edoardo II, che lui sia venuto qui. Ma, al di là di quello, stiamo cercando anche un discendente vivente che porti nelle vene lo stesso DNA del re per poter intraprendere un'analisi genetica forense delle ossa, che dicono siano le sue ossa, per capire se sono realmente quelle del re, paragonando, quindi, il DNA estratto dalle ossa con quello dei discendenti viventi. Perché? Voi dovete sapere che questa tomba dietro di me, questa bellissima tomba d'arco solio, non è l'unica tomba di Edoardo II, anzi, c'è un'altra tomba in Inghilterra, lui è il re dalle due tombe. Nella città di Gloucester c'è una bellissima tomba, un capolavoro della scultura medievale, che, secondo gli inglesi, è la tomba di Edoardo II. Eppure c'è anche la sua tomba qui, all'abbazia di Sant'Alberto di Butrio. Allora, come si potrà stabilire quale delle due tombe è quella vera? solo e soltanto tramite un'analisi genetica forense. Ecco, prima tu parlavi delle bellezze della cultura dell'Italia. Ecco, da straniero, da australiano, insomma, da anglosassone, come lo vedi poi in realtà, come vedi la gestione nel nostro paese appunto della cultura, delle tradizioni? Me lo chiedono in tanti, chiaramente perché è un punto di vista diverso. Permettetemi di raccontare una storia australiana. Negli anni 70 un signore aborigeno di nome Vincent Linghiari cominciò per la prima volta a insistere che le sue terre di origini, della sua famiglia e del suo popolo, non potevano appartenere soltanto ai colonizzatori, ma dovessero appartenere in qualche modo anche a lui e al suo popolo. E lui cominciò dal basso verso l'alto un processo di, come dire, affermazione dei diritti degli aborigini che per loro il diritto più importante era il diritto alla terra. Perché la terra? Perché il loro modo di vivere è la terra. Non c'è modo di scendere l'aborigeno dalla sua terra. Se questo avviene, l'aborigeno non può più vivere il suo modo, la sua cultura. Ora, ha avuto successo dopo vent'anni, dopo più di vent'anni di lotta. Gli aborigini hanno ottenuto dal governo australiano una legge che gli permetteva di reclamare le loro terre se, ma solo se, potevano dimostrare che loro usavano ancora le loro terre in modo tradizionale. Quindi andavano a caccia, raccoglievano i frutti della terra, eccetera. Quindi loro dovevano dimostrare questo loro attaccamento alla terra, all'uso tradizionale della terra e poi potevano avere diritti a quella stessa terra. Ma il problema diventava ben presto che cosa significa la caccia. Stiamo parlando di caccia con il giavelotto lanciato a mano o stiamo parlando di caccia con le armi da fuoco? L'aborigeno doveva ancora usare il boomerang o poteva usare un altro modo per spaventare gli uccelli e farli volare? Quindi c'era un grande dibattito attorno a questo. La cultura degli aborigini doveva essere qualcosa, come dire, congelata nel tempo, in una stasi temporale o doveva essere qualcosa che si evolveva nel tempo? Io vedo lo stesso problema qui in Italia e soprattutto lo stesso dibattito si deve fare qui, nella Valle Staffora. Questa è una terra il quale charme, il quale appeal maggiore è proprio il fatto che è rimasta un po' in una stasi temporale, per cui qui si trovano cose che altrove non ci sono più, soprattutto in Lombardia, Lombardia molto industrializzata, colonizzata, se vogliamo, dal mondo moderno. Qui si trovano ancora le cose antiche, le cose incontaminate. Però, a tempo stesso, ci dobbiamo porre la domanda. Vogliamo che l'apprezzamento della cultura sia sempre rendere la cultura, rendere i luoghi un museo, come può essere ad esempio Venezia, come può essere ad esempio molti luoghi a Roma o Firenze, dove sostanzialmente le città sono diventate dei musei ad aria aperta? Questo, secondo me, è il più grande problema che ci dobbiamo porre, perché se l'Italia si limita a conservare la cultura, mettendola, come dire, in una stasi temporale, per cui nulla deve cambiare, io credo che la cultura italiana sarà destinata a piano piano venire abbandonata dal mondo, dal turismo, dal turismo culturale, perché in questo modo non è naturale. Le culture evolvono con il tempo. Gli aborigini andavano a caccia con il boomerang, adesso usano l'arma da fuoco. Eppure la loro cultura rimane, la loro lingua rimane, il loro attaccamento alla terra rimane. Anche in Italia dobbiamo guardare in faccia, secondo me, il fatto che la cultura, sì, si deve conservare, si devono, come dire, identificare e mettersi a guaria delle vere ricchezze italiane. Ma a tempo stesso non bisogna fare dei luoghi, luoghi chiusi dove nulla avviene. Secondo me l'abbazia di Sant'Alberto di Butrio è un esempio meraviglioso della gestione giusta della cultura. È un'abbazia antica, ma è un'abbazia ancora abitata, ci sono i frati. Quindi è un luogo religioso, è un luogo di culto. Quindi visitare un'abbazia come questa ha un significato che va ben al di là della visita delle rovine di un'abbazia, anche se sono ben conservate. Qua si è in presenza di una comunità religiosa che è attiva, che sta evolvendo nel tempo. Anche gli stessi edifici, dietro di noi c'è un chiostro medievale, ma ci sono anche le vetrate moderne che sono state poste con ottimo gusto in rispetto della tradizione. I frati producono prodotti della terra, artigianali, e questi prodotti si possono acquistare. Mi sembra un ottimo esempio. Faccio riferimento anche alla gestione della cultura in Inghilterra, dove le cattedrali hanno i caffè, le caffetterie, dove si può acquistare un caffè che costa molto di più di un caffè fuori. Ma chi lo acquista sa che quei soldi vanno alla cattedrale e quindi sono contenti di pagare di più per un caffè, perché sanno che i soldi direttamente vanno alla manutenzione della cattedrale. E la cattedrale è ancora un cuore pulsante della comunità, così come Sant'Alberto di Butrio. Lo vedete, no? Ci sono tante persone qui. Questa è la gestione corretta, secondo me, della cultura. Ridurre la cultura italiana al museo, all'area aperta, sicuramente è sbagliata. Se tu vivi qui in provincia di Pavia, ecco, questa zona è minacciata da questo impianto di Pirolisi. Cosa ne pensi? Per me è incomprensibile che una zona così incontaminata, così bella, così ricca di cultura, storia, ma anche di bellezze ambientali, naturali, possa essere teatro di un'avventura di industria all'antica, incomprensibile, che l'aria che si respira qui, che tutti vengono a respirare, si possa inquinare in questo modo. Io vengo dall'Australia, io vengo dall'aria pulita, da un ambiente politissimo. Spesso vengo qui dalla pianura proprio per venire in un luogo pulito. Come tutti penso che vengono qui. è una follia, è semplicemente una follia, impensabile.